Come commenta questa sua riconferma qui a Drogno? Penso che il miglior commento sia quello di ringraziare tutti i cittadini che sono andati a ridarci la conferma a noi come amministratore. Il ringraziamento va a tutta la squadra che ha lavorato con me in questo periodo per arrivare a questo risultato. Sicuramente è anche un risultato dovuto alla passata legislazione, quindi vuol dire proprio proprio male, non abbiamo lavorato, ma ci siamo comportati anche un po' come pretende il nostro cittadino e quindi il nostro territorio. Continueremo in questa direzione, quindi stare vicini alle nostre associazioni, vicini ai nostri cittadini e a guardare il più possibile per il buon funzionamento e la buona fruibilità del nostro territorio, quindi cercare di proteggerlo e conservarlo nei migliori modi. Tutto quello che potremo fare e tutto quello che riusciremo a fare non sarà solo con le nostre forze, ma spero che continui l'esperienza precedente, quindi che le associazioni, tutte le persone di Drogno, che infatti ancora ringrazio e secondo me il Comune non è composto solo dagli amministratori, ma da tutti i cittadini, perché tutti i giorni qualcuno ci può aiutare in qualcosa. Questo può essere lo stimolo per far sì che praticamente il risultato dei prossimi cinque anni sia sempre migliore. Quali saranno le prime cose da fare in questo secondo mandato? Le prime cose da fare, ce ne sono tantissime, perché abbiamo lasciato tanta carne sul fuoco con l'amministrazione uscente, quindi anche è un piacere essere riconfermati, perché vuol dire poter portare a termine i lavori intraprese in questi cinque anni passati. E sicuramente è anche importante, secondo me, riuscire a avere più di un'esiliazione, perché con le burocrazie che ci sono oggi, cinque anni, penso che un sindaco non potrebbe far molto, invece, visto che la burocrazia ha delle lungaggini molto lunghe. Noi penso che un obiettivo unico non ce l'abbiamo. Noi abbiamo l'obiettivo di far funzionare Druogno, far sì che sia un comune vivibile e che sia un comune turistico, quindi cercare di portare sempre più turisti possibili a Druogno e renderlo più vivibile per i nostri cittadini. La cosa più importante che secondo lei è stata fatta e che è stata molto apprezzata dai suoi cittadini? Penso che il progetto migliore dei cinque anni sia stata la realizzazione e la messa a norma della scuola, perché alla fine la scuola è il simbolo e il cuore pulsante della nostra comunità e di tutte le comunità, perché è frequentata dai bambini che sono poi il nostro futuro.